Suscitatore di molte iniziative nel settore dello sport, Alceo Moretti ha costituito la nuova squadra. C'è una ragione sociale, possiamo dire. Quali sono i fini? Un po' anche al di là dello sport o in mezzo alle competizioni, ma quali sono le prerogative della formazione? Indubbiamente questa è una squadra che ha una caratteristica unica nello sport professionistico italiano. È una squadra dove i corridori, gli atleti, partecipano a competizioni senza ricevere ingaggi o stipendi. Hanno avuto invece dalla Spring Oil una sistemazione professionale extrasportiva che consentirà loro, alla fine della carriera che hanno intrapreso, di avere un'attività sicura, un reddito tranquillo e che li inserisce così nella vita civile.